Cos'è la BIT? La BIT è uno sperpero di denaro perché non cresce il turismo grazie alla BIT, c'è la correlazione netta, non un turista in più viene per la BIT, la BIT è un modo come un altro e onestamente a loro non serve per arricchire di più il comune di Milano e l'economia della Lombardia e l'economia milanese, ci sono stato tante volte, me lo sono chiesto l'anno scorso, si va lì, si monta un grande stand che costa un'ira di Dio e chi monta lo stand chiaramente sono gli artigiani locali, le agenzie locali, molto spesso questi stand costano un'ira di Dio e questo è lo stand della regione, poi ci sono gli stand delle province, gli stand dei comuni, ci sono comuni da 500 abitanti che hanno lo stand e spendono possibilmente 100 mila Euro dei loro magri bilanci per avere uno stand dove tutt'al più il presente della provincia, il presente della regione si va a fare la fotografia accanto al sindaco o all'amministratore che sta là, stuoli di amministratori, 3, 5, 7, 10, partono, stanno tre giorni là, si crepa dal freddo a Milano peraltro, meglio Palermo, mille volte meglio Palermo, per andare a mangiare fuori, farsi una passeggiata nella galleria, molestare, spero di no, chiaramente i milanesi o le milanesi, questa è una battuta, andare a spare spese, shopping, perché poi giustamente bisogna portare il regalino a casa e Dio mio per quale motivo sperperare questo denaro se poi quando si fa la conferenza stampa ci sono i giornalisti nostri, gli amministratori nostri, viene magari lì il Presidente della Fiera o qualche personalità importante, si leggesse una sola riga di quella conferenza stampa sui grandi giornali nazionali per cui la Fiera incassa milioni e milioni e milioni di euro, Dio mio comprasse mezzepagine, pagine intere dei grandi quotidiani nazionali italiani, tedeschi, francesi, giapponesi, in maniera tale che i lettori di quei giornali leggessero che c'è alla Bit uno stand bellissimo della Sicilia e che ci sono le madonie piuttosto che i nebrodi e che c'è il mare piuttosto che il vulcano e che c'è la venere di Morgantina che viene quest'anno piuttosto che i mosaici oppure i templi o il teatro greco di Siracusa o di Taormina, nulla, non una riga e allora Dio mio apriamo gli occhi, utilizziamo questo contenitore splendido che è l'albergo delle povere in questa meravigliosa città dove si vive meglio, ci sono alberghi più accoglienti, così li riempiamo i nostri alberghi anziché quelli del nord, si mangia bene nei nostri ristoranti, lo shopping si può fare certamente nei negozi palermitani e qui il denaro lo spendiamo come regione per fare i nostri stand e soprattutto per promuovere qui la venuta di grandi tour operator magari a carico nostro che vengano a conoscere quando è importante la Sicilia e oltre che stare un giorno o due giorni a Palermo magari vanno a fare una puntata a Trapani, ad Agrigento, a Enna piuttosto che a Siracusa, a Taormina o a Messina e anche a Catania. Grazie. Grazie.